Nei prossimi anni Bologna ha grande sfida di fronte a partire dalla dimensione metropolitana. Il nostro programma non a caso si intitola Una grande Bologna per non lasciare indietro nessuno. La scelta di un governo sul milione di abitanti, i cittadini che stanno dall'Appennino alla pianura al capoluogo, abbiamo bisogno di lavorare insieme per superare le disuguaglianze, per portare avanti la transizione ecologica e digitale. Il programma di mandato è un programma davvero importante che abbiamo scritto insieme a una grande coalizione che è nata dalla fabbrica del programma durante la campagna elettorale. Dopo la presentazione del Consiglio Cune di Bologna andremo anche nei territori della città metropolitana perché per un mese e mezzo raccoglieremo osservazioni e arriveremo a marzo a presentare questo programma anche nel Consiglio metropolitano.